Allora, ragioniamo insieme, ci sono cose ovunque e là c'è anche un bel drop, perciò fuoco che fa anche un pochettino di luce, tu muori subito, forse, quelle piccole immagino che scappino, queste crasse combattono giustamente, sono schiappe, sono schiappe forti. Ma la cosa che fa questo rumore mi sa di no, tipo quella cosa gigantesca, che stai ravanando tu altra qua dietro, fammi vedere, una titanite, stai a inguattare la titanite. No, 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 che fa adesso lui? Oh no, è uno di quelli, no, ho trovato un braccio. Brutta zona, che brutta zona, che brutta zona, mamma mia, mamma mia, gli sviluppatori, vi odio. Dai è andato, un colpo, ok. E anche il gigantone ce lo siamo tolto dalle scale. Benedizione nascosta, è anche droppato un pezzo di titanite. E adesso posso esplorare con molta calma. Con la speranza nel cuore che il gigante non respawni, mi manca da esplorare la chiesetta quella lì tutta rotta. Però vedo già troppe centi, troppe centi. Oh, sono riuscito a crearne solo uno. Vai, 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 fai la tua mossa, fai la tua mossa. Guarda, eh sì, eh sì, eh beh, lo stavano a di giù in paese, guarda, lo stavano a di giù in paese. Che, uh, 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 sento cose. Qualcosa è successo. Il drago. Nooo, nooo, pezzi di merda! Pezzi di merda! Pezzi di merda che siete! Guarda, ma hanno rimesso il cacciatore di draghi! Cacciatore di draghi ci hanno rimesso! Pezzi di merda con tutta la vita del boss, praticamente! Patai! Quanto siete infami! Quanto siete infami! Ma che ci prende, guardate! Ma neanche ci prendi! Che mi troppi! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Ma che spettacolo! Ma il drago? Non c'è il drago? Sto arrivando, draghetto! Ma prima sblocchiamo lo shortcut. Eh, lo sapevo! Oh, no, 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 drago! 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 Ha ammazzato tutti! Ha ammazzato qual... Sta tornando da dietro! Sei un pezzo di merda! Sei un pezzo di merda! Un'insenatura! Uh! Yes! Ok! Però devo uscire! Devo uscire! Quello stronzo continua a slanciare le sue fiammate! Ho trovato un miliardo e mezzo di scagli di titanite! Gratis! Così! Sparse per la mappa! Da qua, oltre a prendere la lucertoli... No! Eh, ma hanno anche invaso! Eccolo! Uh! Ma no! Ma Egon! Ciao! Ciao, 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 ciao! Simpaticone! Falò, 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 falò... E quindi? E quindi? E quindi? Ma mi ci vuoi fare arrivare alla boss fight o no? O devo morire prima per forza? Eh, ho capito che sei incazzato! Figurati! Non ci arrivi qua, però, eh! E scommetto che non arrivi neanche qua! Perché sei un draghetto cattivo! Sei un draghetto cattivo! Ti faccio la bua adesso! E ti faccio tanta bua! Ho potuto sparare da solo addosso, giusto? Esatto! Sei prevedibilissimo! E io continuo a menarti! Volevi! No! Ma non fa un cazzo il fuoco! Eh, vabbè! Vabbè! Sputa un'altra cosa! Sputa un'altra cosa! Ma stai calmissimo! Mi ha detto un culo, ma di un culo Che voi neanche immaginate! Non morire! No! No! So close! So close! Cioè, in realtà, così, è una cazzata! Perché basta che tu gli fai fare quello che vuoi! E adesso lui si sputa addosso! Poi, appena io mi metto qua! Lui carica la sputacchiata in avanti! Io rollo! E gli vado a colpire il pazzampotto! E continuo così, per sempre! Fino a che lui non decide che se ne va! Ah, no, no, no! Si è girato! Per motivi a me sconosciuti! Si è girato e ha fatto questa cosa! Prendimi, drago! Bravo! Lo sta alloccato? E gli ho fatto il riposte? E ci ha salutati così? Ma no! Drago! Che tristezza! La trottola! Gigi! Ma è l'ennesima statua di Queen! Ma come prendo quell'oggetto adesso? Agonia più avanti! Ti voto tutto, tutto! Ma siamo rispuntati di qua! Alla cattedrale! E quello non mi sembra il solito tizio! Porca puttana! Porca, porca, porca! Ah! 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 Ah, non lo posso backstabare, giustamente! Ma che arma è? Ma che armi sono? Ma che... Ma... Ma di che co... Ma di che cosa... Ma tu 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 tu! Ah! Sì! Dritta nel deretano! Volevi! E me le ha droppate! Me le ha droppate, signori! Mi ha droppato quelle fottute spade! Non voglio sapere il pvp da adesso in poi! Non lo voglio sapere! Hanno messo il patto nuovo! E scommetto che... Eh, c'è il frammento di lancia rituale qua! E io apro! E a giudicare dai segni di evocazione, eh! Mi sa che il boss è bello tosto! Andiamo! Ma come? Ma non fa parte del boss, per te dai! E invece sì! Ma... Ma no! Ma è un giocatore! È un giocatore! È un giocatore, ragazzi! Il boss è un cazzo di giocatore! No! Lo curano loro! Bastardo! Bastardo! Oddio! Dai! Ma che roba è? No! Cioè... Non ci posso credere! È fantastica! Fantastica sta cosa! Oh no! No! Si è triggerato lui! No! Ho triggerato lui! Cazzo! Ok! Morto! Ah no! Ma questo è quello vero! Questo è quello vero! Stavolta è il boss vero, ragazzi! Beh, c'ha troppa vita, effettivamente! Mori! No! No! Gli manca un cazzo! No! No! Non mi uccidere! Porca puttana! Porca puttana! Porca puttana! Oh, senti! 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 Vaffanculo! Fammi vincere, per favore! Sì! E prima i giocatori! E porta pure il pc! Sì!